Amici di Lecce News 24, buongiorno e ben ritrovati con le nostre breaking news. Apertura dedicata ad una notizia di cronaca, in particolare ad un intervento del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce al termine di alcune indagini autorizzate dalla Procura della Repubblica durate otto mesi. I baschi verdi hanno individuato un soggetto che ufficialmente...